Come è la città? Come è un cittadino di Catanzaro. A me piace questa città, mi piace vivere qua. 12 anni fa ho avuto la chiave della città e ora la cittadinanza onoraria. Non lo so poi che cosa ci sarà, non lo so. Ci racconta qualcosa della sua epoca in Catanzaro, del rapporto con la città, soprattutto con i catanzaresi? È iniziato praticamente nel 1974. Già c'è stato l'inizio di una grande avventura. Ma la cosa bella è che è cresciuta questa stima nei miei confronti dopo che ho smesso di giocare. Con gli anni c'è sempre stata una cosa in più. Ogni anno che scendevo c'era sempre qualche cosa in più. Ma quello che più mi faceva specie è vedere i giovani che praticamente non mi hanno mai visto giocare eppure venivano a chiedermi la foto, l'autografo, la stretta di mano. Questa è una cosa molto bella per me perché io sono molto... ho sempre lavorato con i giovani. Perciò una cosa del genere mi rende ancora orgoglioso di stare qua. Ovviamente nel ricordo di quel Catanzaro e quell'epoca epica. Oggi il Catanzaro torna nel calcio che conta. Guarda, Catanzaro ultimamente ha fatto 11 play-off e non è riuscito a salire. Perciò o arrivava primo o non sarebbe salito neanche questa volta. Però questa volta hanno esagerato. Hanno esagerato positivamente perché hanno vinto il campionato un paio di mesi prima della fine. Perciò è stata una cosa eccezionale. Mai successo in nessun campionato d'Europa. Perciò si è parlato molto di Catanzaro anche per questo. Però la cosa che io mi sento di dire è che non bisogna fare i paragoni tra l'oggi e ieri. Perché è un paragone che non può... Ogni anno, ogni epoca ha i suoi alti, ha i suoi bassi come ora. Perciò ognuno deve rimanere nel proprio ambito. A proposito di questo Massimo, insomma, chiaramente un calcio totalmente, completamente differente. Un'estate, il calcio mercato lo sta dimostrando. C'è quasi una fuga dal calcio italiano verso l'Arabia, verso l'Inghilterra. È preoccupante tutto ciò? Guarda, io dai miei tempi, a parecchi vostri colleghi, ho sempre detto, quando mi hanno fatto la domanda, la differenza tra il calcio di oggi e il calcio di allora. L'unica cosa che è rimasta la stessa è la forma del pallone, cioè rotondo. Perché per il resto è cambiato tutto. Sia dentro dal campo che fuori dal campo. Quello che si stava vedendo oggi è veramente un'indecenza. perché non si può parlare di quelle cifre quando nel mondo c'è una recessione incredibile. Insomma, questo è uno schiaffo a chi veramente ha la difficoltà di andare avanti giorno per giorno. C'è una differenza rispetto al calcio di giocato che riguarda il modo di battere i calci d'angolo? Lì è un'altra cosa che non mi dà fastidio, però a questo punto mi fa sorridere. Perché io vedo che tirano un calcio d'angolo, però vanno a finire verso il centrocampo. Palla indietro, palla indietro, palla indietro per mantenere il possesso di palla. Ma non è così. Ma il calcio d'angolo, almeno da che mondo è mondo, era un pericolo per chi si difendeva. Se questi la giocano indietro, il pericolo si allontana dalla porta. Io ho sempre cercato di partire dal presupposto che se non si tira in porta il gol non si fa. Perciò, per questo io tiravo da tutte le posizioni. Tiravo dal calcio d'angolo, tiravo le punizioni, tiravo anche dalla linea laterale. Ho fatto dei gol da 35 metri così, con la complicità del portiere, per carità. Però se io non avessi tirato, il gol non l'avrei fatto. Perciò questa è la mia massima. Ha individuato in questi anni un piccolo palanca, un calciatore che magari le poteva somigliare per caratteristiche? Io ho fatto per anni l'osservatore per le under nazionali e ho girato un po' tutta l'Italia. L'unico che ho visto che poteva somigliare era Giuseppe Rossi del Parma. Quando andavo a vedere le partite del Parma, dei giovanili, ho visto questo ragazzino, mancino, che giocava sotto età. E con le dovute proporzioni, è chiaro, vedevo che c'era qualche cosa di mio. Abbiamo pensato di mettere questa frase sull'etichetta della maglia all'interno della stessa. L'inizio non è molto. Sono un povero diavolo. Vivo la giornata. Penso all'oggi. Il domani non mi interessa. Io sono in provincia. Io sono lontano, mille chilometri dai grandi centri. Io sono quello che sono. E gli anni passano. Ma ho una moglie e un figlio che mi fanno sentire importante. E la sera, quando me ne vado a casa, Catanzaro diventa Parigi, Roma, New York. Sarò un po' matto, ma è così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.